buongiorno ragazzi per chi volesse sostenere il canale ricordatevi sempre che si può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina mi è stato fatto notare soprattutto da dai dai vari detrattori non parlo del regime di pechino poi comunque ragazzi rimane tutto nello scherzo pechinesi australiani cioè siamo tutti tifosi dell'inter poi alla fine no ognuno vuole bene all'inter a modo suo per esempio io sto ricevendo dei complimenti inaspettati ma non perché io sia in cerca di consensi anzi io sono sempre quello che rompe i coglioni a tanti interisti perché poi prendono solo quello che gli fa comodo per lavoro con una persona importante per quello riguarda l'inter che io stimo tanto non posso fare il nome che mi diceva proprio questo giuse io perché ci sto attento quando guardo i tuoi video voglio capire bene perché è vero è sempre detto che l'inter si è mossa nella totale legalità io non ho usato l'esposto per rompere i coglioni a questa proprietà ragazzi assolutamente no io ho ripreso l'esposto che si è comunque rivelato un buco nell'acqua ma perché si è rivelato un buco nell'acqua perché eh noi sono mesi e mesi che diciamo da prima che arrivasse questo esposto che l'inter si è sempre mossa in totale legalità e che tutti i dirigenti sono sereni l'ho detto io l'ha detto l'avvocato pierre l'ha detto fmec l'ha detto alessandro g quindi l'organo eh ma gran tower non pubblica i bilanci ok chiariamo anche un'altra cosa che mi hanno chiesto lo faccio volentieri gran tower non pubblica i bilanci ripeto la luce la legge lussemburghese permette di non pubblicare i bilanci tra l'altro questo organo di controllo che verifica e rilascia la relazione quindi con bandiera verde positiva a tutti i documenti per certificare quella che è l'iscrizione del campionato hanno certificato che c'erano tutti i parametri per iscriversi al campionato loro li conoscono i bilanci di gran tower non li conosciamo noi ma chi ha rilasciato la certificazione per l'iscrizione conosce benissimo i parametri dell'inter e criticare quella relazione criticare quella relazione e mettere in dubbio un organo di controllo di quella entità e da pazzi secondo me quindi è per questo che quell'esposto per come la vedo io è stato mosso dall'odio più che altro magari soprattutto per i tifosi della juve comunque questi sono avvocati tifosi si sono visti vicini a noi ci hanno sorpassato poi dopo stanno mangiando il fumo e magari sono nervosi ma questo questo non ci deve far dimenticare una cosa però io per quello che ho usato l'esposto per sottolineare per sottolineare una cosa e a quanto pare qualcuno ha frainteso l'esposto ci deve far accendere la lampadina sono dei campanelli di allarme indipendentemente da dal fatto che l'inter abbia gestito tutto ripeto per l'ennesima volta in totale legalità ragazzi ma la situazione finanziaria dell'inter purtroppo non è più sostenibile con debiti e pagano debiti non è più sostenibile questa situazione cioè eh e ci sono dei presidenti di serie A che tengono i bilanci in ordine da anni non parlo della juve non parlo della juve ma ci sono diversi presidenti di serie A che tengono i bilanci in ordine da anni non accettano più questa situazione all'inter non l'accettano più non accettano più di vedere debito e paga debito di andare avanti e di vincere perché quando vinci poi allora sì che gli rimani sulle scatole la gente e allora sì che fanno di tutto per mettete per metterti bastoni tra le ruote cioè capito non tollerano più di competere con chi è sommerso da debiti e che che fa debito paga debito non lo tollerano più anche se siamo nella totale legalità e il sistema ce lo permette come come permette a tante altre squadre di essere ancora in serie A l'abbiamo detto tante volte anche perché questa è una situazione che risolvi solo ed esclusivamente in una maniera mettendo soldi e fare aumenti di capitale cosa che questo presidente è impossibilitato a fare per quello ho usato l'esposto perché le vittorie non ti devono fuscare la mente lo devi guardare a 360 gradi io parlo da tifoso sarò come ti pare da poltrona da armadio parlo da tifoso vuole bene all'inter perché poi il campionato sta per finire ora la palla entra dentro ma dopo cosa si fa qual è il progetto di questa società siamo tutti tranquilli perché c'è ok non falliremo mai assolutamente sì ma qual è il progetto di questa società vogliamo continuare ancora sulla lama del rasoio a fare debito pagadebito con tutte queste scatole cinesi dove alla fine ragazzi parliamoci chiaro tutto legale tutto regolare ma in questo castello pegni contropegni in queste scatole cinesi ci sono solo prestiti interessi e temiti ma di cosa ragioniamo non si può andare avanti così per quello ripreso l'esposto ma l'esposto di sé per sé l'ho detto subito che non voleva nulla sono stato chiaro ho chiarito come quando dio e chi difende chi difende zang e parla di aumenti di capitale di cose non esistono non mi rivolgo ai tifosi mi rivolgo agli organi di stampa io chiariamo bene anche questa mi rivolgo agli organi di stampa e che millantano cose che non esistono solo per i propri interessi non parlo dei tifosi che interesse può avere un tifoso normale che va allo stadio a difendere questa proprietà che interesse può avere chi difende zang viene pagato ma non penso proprio parlo degli organi di stampa degli organi di stampa e certi problemi non devono inquinare lo status societario dell'inter certi problemi sapete a chi mi rivolgo non devono inquinare lo status di questa società gloriosa e purtroppo si sta inquinando lo status di questa società veniamo al calcio veniamo un po' a questo veniamo un po' a questo è inutile apri un canale youtube se non sai nemmeno come rotola questo cosa lo apri a fare o tutti questi fomentatori d'odio i leoni da tastiera che ti offendono fate ridere voi fate ridere aprano canale si fanno aiutare altri perché e poi non sapete fare un discorso sul calcio siete inascoltabili voi voi siete inascoltabili fate pena parlate di ricette che è meglio con una partita settimana io sono tranquillissimo però spero una cosa si mica subito il prima possibile lo scudetto per dar spazio a chi ha giocato meno per vedere chi è da inter chi non è da inter buchanan bisec perché sono dei giovani sicuramente interessanti buchanan ad oggi non ha fatto vedere nulla bisec ha già fatto vedere dei miglioramenti io lo vedo un esterno con doti difensive bisec l'ho sempre detto io lo vedo perché ha una falcata importante ha una tecnica importante in fase difensiva ma ancora non ce lo vedo tanto ma lo vedo come un esterno in futuro in proiezione futura con ottime doti difensive a scelvi 36 anni prossimo anno deve essere la prima riserva lo puoi usare come centrale come bracetto di sinistra quindi anche lì prova magari un po più bisec per quello vinciamolo il prima possibile incominciamo tutti a festeggiare e soprattutto poi incominciamo a proiettarci verso il futuro con un cambio di proprietà perché qui mai come quest'anno che secondo qualcuno a livello di immagine vabbè siamo stati un po penalizzati ma mettiamo da parte questa cosa qui qui non c'è altra soluzione se non a quella di un cambio di proprietà perché senza conferimenti di capitale noi il prossimo anno facendo un altro anno così saremmo nel milino di tanti cecchini pronti a spararci subito non puoi più andare avanti così e tanti presidenti di serie a non sto parlando della juve te lo hanno fatto capire perché purtroppo l'inter produce bilancio negativo da anni 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 altro è festeggiare per i primi sei mesi più 22 perché te vai a meno 50 quest'anno cosa festeggi meno 50 con uno non può mettere un euro cosa c'è da festeggiare a livello finanziario l'inter è stata gestita con i piedi a livello sportivo e dei risultati siamo sicuramente cioè questo è un miracolo una squadra costruita a zero euro che ti stradomina il campionato che fa un culo così all'atletico madrid in champions e che butta via una partita perché davanti agli ex giocatori parliamoci chiaro con un po' più di investimenti questa squadra avrebbe vinto molto di più a partire da quella di conte per come la vedo io invece di smantellare tutte le volte perché non c'è un euro ciao inter ti aspetto leone da tastiera quando vuoi ti aspetto le parole da stelle